Ciao a tutti i LEGO fan e benvenuti. Oggi vi porto una vera e propria checca, un set della linea LEGO Star Wars del 2012, quindi parliamo di ben 17 anni fa. Il set risulta essere costituito da 118 pezzi e una sola minifigura. Il numero del set è il 7119. Io partirei proprio dal libretto delle istruzioni, come potete ben vedere, a un qualcosa proprio di retro, è davvero con grafica di qualche anno fa, la scritta bella Star Wars in versione quasi dorata, è il TwinPod Cloud Car presente su Cloud City. Vi faccio vedere alcuni dei set di quegli anni che sono rimasti nella memoria. Peccato non averli, li ho rincorsi per tantissimi anni, non sono mai riuscito a recuperarli. Sono dei piccoli set, il 7200, il 7201, il 203 e il 204. Quelli che più preferisco sono questi due. Poi abbiamo ancora altri set. Sì, è presente questo qui, l'attacco degli Evoque, altrettanto bello. Poi c'è la TST, non so se riesco a farveli vedere alla perfezione. Poi c'è il primo Emperor's Shuttle, quindi lo Shuttle dell'Imperatore, la prima versione. Queste poi sono le prime minifigure che uscivano in quegli anni. Ovviamente c'è anche questa bellissima TwinPod Cloud Car. E poi abbiamo il TIE FATHER, il primo TIE FATHER e uno dei primi Millennium Falcon. Sono addirittura il primo Millennium Falcon. Ecco, bellissimo. Questo insomma è un po' di storia di LEGO Star Wars, se vogliamo. E qui abbiamo il nostro TwinPod Cloud Car. Bello, un colore rosso. Tra l'altro ne è stato presentato uno in questi giorni, piccolino. Quelli dedicati dal DK, Build Your Own Creation. Sono praticamente dei libri, come quelli che vi ho già portato e che vi porterò nei prossimi video, uno in particolare ve lo porterò nel prossimo video, della DK Publishing, che hanno tutta una serie di presentazioni, di set che è possibile costruire. E poi c'è una piccola parte dedicata proprio alla costruzione, con 50-60 pezzettini, o anche meno, in cui è possibile costruire proprio una Cloud Car. È molto molto carina, questa è la prima versione. Poi ne hanno fatto una piccolina nei Planet Series. E poi ce n'è una presente nella nuova Cloud City, che insomma, tanto affatto di scooter, non è piaciuta a tante persone. Quindi c'è una doppia cabina di pilotaggio, cabina di pilotaggio che può essere aperta per permettere l'entrata del guidatore. Questa è una radio, ovviamente, io l'ho sistemata lì, non ricordavo neanche di averla messa lì, ma non solo, per facilitare l'apertura si può aprire anche questo lato e quindi abbiamo l'ingresso facilitato per il pilota. Allora, questo è un pezzo stampato che non si vedrà mai, eccolo qui, un pezzo stampato. In realtà ce ne sono due, perché quello che è presente qui è presente anche nell'altra cabina di pilotaggio. Andiamo a richiudere questa parte, quindi una doppia cabina, e al centro è presente, per non farsi mancare nulla, anche una sorta di spazio per poter sistemare oggetti. In realtà non ci va praticamente nulla per come è stato costruito, per il design utilizzato all'epoca, però comunque è carina, comunque ricorda tantissimo proprio la TwinPod Cloud Car. Dall'altro lato invece, come dicevo, è identico, c'è l'apertura, quindi eccolo qua, in questo modo, e qui abbiamo il famoso Lobot, eccolo qui, nella sua prima versione. Io ne ho, come vi dicevo, due, ne sono usciti in tutto, credo, dai calcoli che abbiamo fatto anche insieme, ne dovrebbero essere usciti tre, tre Lobot in tutto, in versione Lego, questo qui del 2000-2002. Poi abbiamo anche un'altra versione, che è quella, come vi dicevo, della serie Planet Series, che è anche quella c'ho, poi un giorno vi dovrò portare un po' quella serie. Poi abbiamo anche quella nuova del 2018, dell'anno scorso, come dicevo, la nuova versione di Cloud City, e in questo caso qua, beh, lì sono presenti addirittura 21 minifigure, e una delle quali è proprio la nuova versione di Lobot. Questa, come dicevo, è la prima, è presente come accessorio, eccolo qua, questo dovrebbe essere una sorta di androide, ma è vero che la parte posteriore della testa, che è stampata, presenta tutta una serie di, una placca metallica, con dei, la placca metallica, con dei congegni, che sono visibili e anche luminosi nella versione cinematografica. Una bella minifigura, certamente, un bel mezzo. Devo dire che non piace a tutti questo, questo mezzo, nella saga di Savos, però vi assicuro che è comunque iconico, come tutti gli altri. A me, personalmente, piace, piace tanto, credo che sia, come dicevo, perché lo ricordo bene, tra l'altro è presente nel film Episodio 5, il ritorno del, no, insomma, Episodio 5, che poi ha il sottotitolo, se vogliamo, l'impero colpisce, l'impero colpisce ancora. Bene, ragazzi, questo era tutto per il TwinPod Cloud Car, in attesa di farvi vedere anche quello piccolino della versione Planet Series, forse qualcuno di voi li ricorderà. Buona costruzione a tutti, e al prossimo video. Ciao ragazzi!